Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Lily Looking Through. Allora, nello scorso episodio ci siamo fermati, proprio in questo punto abbiamo trovato degli occhiali molto speciali che ci permettono una volta indossati di passare da un universo all'altro, quindi se noi per esempio li togliamo ci ritroviamo credo in un mondo del passato e il nostro fratellino che vola via, povero. Allora, vediamo, se noi stiamo di qua non possiamo passare, qui c'è un gufo, non so cosa possa servirci, comunque, invece se noi stiamo di qua possiamo attraversare? Ah, senza cadere, sì, bravissima. Che cosa? Ah, si è distrutto tutto. Questa cosa lo posso prendere? No. Però se io invece vado nell'altro mondo, posso arrivare fino a qua. Ah, dove sta andando? Ma dove va? Ah, è scesa proprio. Allora, qui non posso andare. Il gufo non posso fare nulla, quindi torniamo di qua. Ah, siamo al piano terra. Uh, questo? Ah, sì che lo posso prendere questo. Però non saprei cosa farmene. Qua c'è un qualche tipo di marchigegno. Tipo un qualcosa, un mulino per l'acqua forse. Questo non funziona. Allora, qui abbiamo un pezzettino di legno. Qua no. Qua no. Qua no. Forse no. Cosa può servirmi? Cioè, sembrerebbe andare qui. Ma non mi lascia. Qua? Neanche. No. Aspetta, se io torno di qua? Ah, siamo sopra la roccia. Eh, vabbè, ma non faccio nulla sopra la roccia. Eh, no. Non posso portarmi gli oggetti da una parte all'altra? No. Non mi lascia. Hmm, vediamo, vediamo. Questo abbiamo detto che non funziona. È bloccata qui. È bloccata. Ah, qua. Cosa? Ah, giustamente. Quindi adesso si dovrà girare. Così. Abbiamo cambiato qualcosa. Adesso l'acqua scorre di qua. se io vado nell'altro mondo non c'è nulla di diverso. Allora, rigiriamo ancora. E adesso scorre di qua. Ah, questo scende. Hmm, interessante. Posso metterci questo adesso? No, dove è andato? Sì. E a cosa mi serve? Ah, mi ero dimenticata che si può zoomare. Qui ancora non è cambiato nulla. No. Ma ha i baffi questo ufo? Vabbè. Proviamo a rigirare. Dunque, così. Nulla. così. Si alza questo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto qualcosa. Ah, si arrampica. Bene. Oddio, ma se io adesso vado nell'altro mondo, qui non c'era nulla. Ah, sì, invece. Siamo qui dove c'era il ponte. Salve. E se ne va via così? E quindi, se io torno di qua... Sono qua in cima. Ah, no, forse ho sbagliato. Questo secondo me mi serviva da ponte, così. Aspetta, sì, io vado qua. Secondo me mi serviva come ponte. Quindi. Torniamo qua. Eh, sì, perché non posso arrivare lì. Si può scendere? Come faccio a scendere? Qua c'è la manina. Sì, scendi. Scendi che dobbiamo girare questo. Da dove scende? Ma cosa? Dai, vieni qua e gira la... il meccanismo. No, così no. Ancora. Così. E adesso sali. In teoria, qua... Forse possiamo usarlo come ponte. Quindi. Usiamo gli occhiali. Andiamo... Qua. Togliamo gli occhiali. Si può? Sì! No! Che è successo? Dov'è andata? Ah, no! Perché non sta a fermo? Ah, devo usare questo! Mi ero dimenticata. Questo qua... Dovrebbe tipo fissare questo coso. Quindi... Così... E ancora. Eh, sì, dobbiamo usare questo. Così lo fissiamo e lui sta a fermo. Ok. E adesso saliamo. Ok. E adesso saliamo. Allora... No, mettiamo gli occhiali. Corriamo di qua. Adesso li togliamo e forse riusciamo a passare. Sì. Adesso sì. Uh, che brava. Uh, bravissima. E adesso saliamo. Dove... Ah, eccola! Bellissimo questo posto. Uh, il fratello... No. Cosa? Ok. Allora, credo che il fratello sia entrato lì. Qui sotto. Però la... La sciarpa rossa è volata via. Allora. Qua c'è un albero secco. Questo che cos'è? Lei vorrebbe spostarlo, però non si sposta. Ah, si può arrivare qua, però. Perché guardi in alto? Non si sa. Di qua non si può andare. Allora mettiamoci gli occhiali. Oh, no! Che carino! Che carino! Che cos'è? Un scogliattolo! Bellissimo! Bello! È cambiato completamente! Uh, wow! Bellissimo! E qua c'è sempre il solito gufo. Forse adesso questa la può spostare? Visto che voleva spostarla prima. Vediamo. Vuoi spostarla? Ce la fai? No. Eh, no. Pensa troppo. Ah, però fa uscire l'acqua. Fa uscire l'acqua. Ah, dunque, vediamo. Qua cosa c'è? Ah, no. Spinge ancora. Hmm, non la posso spostare. Qui invece? Che mi fa cliccare l'albero. Ah, ci arrampichiamo. Ah, che cosa? Ah, ok. Andiamo da mangiare allo scogliattolo. Ma ha il senso di questa cosa? Non lo so. Se io cambio... Ah, oddio! Oddio! Ah, scusami. Non pensavo che cadesse. Hmm. Qua si fa complicato. Però non abbiamo provato a fare nulla qua. Aspetta. Vediamo se qua c'è qualcosa da fare. Questo no. No, qua non si può fare nulla. Hmm. 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 Risaliamo qua. Non è che magari posso salire sopra la sfera? No, fa il giro? No. No, 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 no. Non fare il giro. Non volevo. Tanto non riesco a spostarla. Qui non si fa nulla. Hmm. No, torna su. Eh, vediamo. Da qua non posso arrampicarmi più in alto, tipo? Qui no. Qua? Qua forse sì. Salve, signor gufo. Hmm. Posso zoomare? Esatto. No, ma cosa fa? Perché vuoi mandarlo via? Ecco, appunto. Poverino. Ma cosa fai? Ecco. Però è caduto qualcos'altro. Dove? Ok. Si è posato lì. Questo che cos'è? Ah, perfetto. Possiamo spostare questo masso. Allora, adesso abbiamo fatto scorrere l'acqua. Questo lo posso usare ancora? Hmm. Su gufo? Hmm. No. Ah, qui dentro non ci posso andare. Abbiamo fatto uscire l'acqua. Andiamo qua. Proviamo un attimo a toglierci gli occhiali. Vediamo se... No. Qui non cambia nulla. Qui ancora non cambia nulla. Qua non... Ah, non c'è più la roccia anche qua, però. Però non cambia nulla. Ah... Saliamo ancora qui. Vediamo. Qui non posso più andare. Qui posso ancora far cadere... Queste. No. 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 Ah, ok. Ok. Pensavo se lo mangiasse. Poverino. Ma per chi queste cose? E se io faccio così esce ancora? No, non esce più. Però almeno è salvo. Sì, però io non so che fare. Non puoi saltare tipo... Dal ramo qua. No. E se io torno di qua? No. Però tu guardi sempre qui in alto. Qui non c'è nulla. Qui adesso c'è questa. Che però non posso fare nulla. Qua? Ah! No, ditelo prima. Ah no, ma non mi fa da ponte. Ah no, io pensavo mi facesse da ponte. Invece non va qua. Ok, allora cosa mi è servita questa cosa? Pensavo di poter passare tipo qua. Allora. Ok. È cresciuto un albero. Ah, perché abbiamo piantato la noce. Abbiamo fatto cadere la noce. Le abbiamo dato acqua. E quindi è cresciuto un albero. Bellissima questa cosa. E adesso sì che posso andare di qua. Ok. Molto, molto bello. Vediamo. Però io comunque non posso arrivare qui. Ah, vediamo. No, qua non c'è nulla da cliccare. Allora, mettiamoci gli occhiali. E adesso... Ah, che faccio? La posso mettere qua? Sì. Quindi adesso cresce. Esatto. È cresciuto di nuovo. Un altro albero. L'abbiamo tolta. Abbiamo tolto la noce da qua. Quindi l'albero non è più cresciuto qui. Ma è cresciuto qui. Molto carino. Allora. Adesso qua non c'è altro da fare. Sì, invece. Che... Che cosa? Ma cosa fai? Mettiamoci gli occhiali. Ah, siamo qui sopra. Allora... Vediamo. Qui? Questo non so cosa possa servire. Eh, ma non ce la fai. Questa non fa nulla. Qua? Che cos'è questo? Cosa? Cambia qualcosa di qua? No, non cambia nulla. E questo? Oddio, questo è complicato. Non so proprio. Allora... Così si sposta di tre. Io la noce non la posso più spostare. E mi blocca l'acqua. Non è che devo bloccare quest'acqua? Allora... Così me lo sposta di tre. Uno, due... Uno, due, tre. Uno, due, tre. Dovrebbe andare qui, giusto? Uno, due, tre. Ah, no! Ce n'è uno in meno. Quindi fa... Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ok. Invece questo me lo sposta di... Uno e due. Allora... Uno, due, tre. E adesso lo spostiamo indietro di due. Quindi... Uno... E due. Ok. Con l'acqua si è fermata. Qui? Eh, giustamente qui non cresce più l'albero. Però non è cambiato nulla. Lei comunque non ce la fa. Scusa, se io vado qui... Cioè non capisco questa cosa del spostare, di fermare l'acqua. Che senso ha? Se... Dai, 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 dai! Sì! Sì, 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 sì! E quindi? Cioè se io adesso vado qua... Ah, no! Ma perché? È complicatissimo questo, veramente! Allora, aspetta, riproviamo. Fermo, ferma, ferma, ferma. Sì, io premo qua. Che cosa? Ancora! Quasi! Sì! Stiamo precipitando! Uh, bene! Siamo arrivati in una zona di mare. D'accordo, direi comunque di fermarci qua con questo episodio. Quindi lasciate un like e un commento se vi è piaciuto. E iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!